ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video molto speciale è un video a cui tengo tantissimo perché vi volevo parlare di una cosa a cui tengo molto mi avete già sentito parlare di questa cosa qua in qualche video precedente però non ero mai riuscita a ufficializzare diciamo la cosa quindi volevo appunto fare un video dedicato a questa cosa qua ma mi faceva piacere parlarvene meglio più approfonditamente allora stiamo parlando del gruppo che ho creato su telegram come appunto vi avevo detto qualche tempo fa avevo sperimentato questa cosa e avevo voluto scaricare telegram che per chi non lo sapesse è un'app di messaggistica tipo whatsapp però ha delle funzioni in più rispetto a whatsapp scusate ma ora sta passando un camioncino e sicuramente farà un macello appena passerà il like perché c'è un buco e come al solito farà casino comunque spero non lo sentiate quindi niente appunto dicevo che è un'app di messaggistica che ha qualcosina in più rispetto a whatsapp in che senso nel senso che telegram ti dà la possibilità di creare dei gruppi pur non avendo il numero di telefono delle persone inserite nel gruppo o meglio quando ci si iscrive a telegram ci si iscrive sia con numero di telefono che con un nickname in pratica questo nickname la funzione del nickname del nickname ciò posso fare è questa nel senso tu ti puoi iscrivere a vari gruppi tu puoi messaggiare con altre persone non mostrando il tuo numero di telefono e mostrando soltanto il nickname quindi appunto ho voluto creare questo gruppo ovviamente vi lascio il link diretto per entrare a far parte del gruppo qua sotto e sarei molto contenta di avervi quindi appunto tramite il link diretto poi entrerete a far parte direttamente dal entretta far parte del gruppo automaticamente e quindi è una cosa che mi rende super super felice siamo partiti da due e adesso siamo in 18 insomma non sembra ma per una persona che ha un canale piccolino come il mio avere comunque 18 persone in un gruppo di telegram c'è una cosa favolosa tra l'altro ci sono anche delle persone che non mi conoscono cioè nel gruppo ci sono anche persone che non mi conoscono diciamo da youtube e quindi sono veramente veramente contenta e qui ci scambiamo consigli ci scriviamo tutte le mattine il buongiorno insomma è bello è bello perché praticamente ci sentiamo tutti i giorni parliamo di qualsiasi qualsiasi cosa quindi io spero 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 tutto il cuore che voi entriate a far parte del del mio gruppo del nostro gruppo e niente appunto non vi resta che cliccare il link qua sotto nel box informazioni e per qualsiasi domanda mi raccomando non esitate e scrivetela pure qua sotto e nei commenti io sarò felicissima di rispondere a tutti quindi nulla io vi mando un grande grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video ciao